Un viaggio breve ma intenso e soprattutto pieno di impegni è quello del principe William in Israele. Il duca di Cambridge si è detto profondamente emozionato visitando il memoriale della Shoah a Gerusalemme, da dove è cominciata la parte ufficiale del suo soggiorno. Non dobbiamo mai dimenticare quello che è accaduto, l'uccisione di 6 milioni di uomini, donne e bambini, solo perché erano ebrei. Tutti noi, ha dichiarato il principe William, abbiamo la responsabilità di ricordare e di insegnare alle future generazioni gli orrori del passato, in modo che non si ripetano mai più. Dopo il memoriale dell'Olocausto, dove ha incontrato anche due sopravvissuti, l'incontro con il primo ministro israeliano Netanyahu nella sua residenza privata. La Gran Bretagna fu la nazione che nel 1917 chiese la creazione di una casa nazionale per il popolo ebraico in Palestina. Non solo faccia a faccia istituzionali, William ha anche partecipato a una partita di calcio tra giovanissimi giocatori ebrei e arabi a Tel Aviv e tra una chiacchiera, un sorriso e un selfie si è pure concesso di fare qualche tiro in porta con questi piccoli campioni.